Ad arricchire l'elenco partenti ci saranno anche 9 partecipanti al Suzuki Rally Cup dove le sfide sono aperte tra le Swifter e Uno Sport e dove l'uomo da battere sarà l'austano Simone Goldoni. Sì, per noi qui da neofiti in quanto è la prima gara un po' fuori confine che facciamo gara molto bella, allo stesso tempo molto difficile siamo consapevoli di aver fatto un bel lavoro ma altrettanto consapevoli del fatto che i nostri avversari, i principali avversari abbiano più esperienza di noi su questa tipologia di strade quindi noi vediamo di fare il nostro cercare di metterci a punto qualcosa in più rispetto agli altri e sperando di fare una bella gara. Nella corsa tra i 9 trofeisti della Suzuki Rally Cup ottima prima prestazione cronometrata per l'austano Simone Goldoni in coppia con Flavio Garella davanti al padovano Nicola Schileio navigato da Gian Guido Fusneri. Nell'appuntamento valido per la Suzuki Rally Cup la vittoria è andata al Trentino Roberto Pellè insieme a Giulia Luraschi dopo una gara combattuta e difficile tra le 9 Swift R1 Sport davanti all'austano Simone Goldoni navigato da Flavio Garella sulla versione Swift nelle versioni 1000 Booster Jet e 1600 Sport di classe R1. inoltre 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 inoltre. e Grazie a tutti.